Musica Benvenuti in questo nuovissimo video Oggi andremo a fare i tipi di compagni di classe Belli senza aggiungere altro in come Ciao Bene, buongiorno ragazzi Buongiorno prof Bene, oggi c'erano compiti da fare Non provi a effiatare, giuro che ti accido Pure io Ragazzi, c'erano compiti? Se no, ora spiego Plus, c'erano da fare 50 settitti a pagina 120, 121 e 122 Io ho fatti fino al 100 perché vuole la mia media Bene, allora iniziamo lì subito a correggere Scusate ragazzi, devo andare un attimo in bagno Uno, due, tre Tocca adesso la secchiana Bene ragazzi, sono le dieci Ancora cinque minuti Ancora cinque minuti Non riesco a speppare Fanno fame Bene ragazzi, vi stavo a dire Dream Bene ragazzi, potete mangiare Io esco un attimo a parlare con gli altri professori delle altre classi Cebbo Non ho niente Vado a chiedere a Botton Spero che non mi uccida Scusa, Botton Cosa? Mi potresti dare un pezzetto della tua merenda? Hai una torta intera? Come ti bemmetti? Non prendere mai la mia torta Non mi uccido Ok, basta Io me ne vado Bene Ok ragazzi Adesso faremo lezione Stavo mettendo un attimo i voti sul registro Adesso sposto un attimo il computer Prendo il libro E adesso andiamo a vedere Carlo V Bene, ho preso il libro Adesso iniziamo subito a leggere Prof Cosa vuoi Flower Wishes? Ciao Flower Wishes Non mi interrompere per queste stupidaggine Adesso dobbiamo leggere il capitolo Ho capito? Ho capito? Ho capito? No, prof Non far ridere Oh Oh, va bene Stiamo dicendo che Carlo Magno Voleva fare un grandissimo impero Prof Flower Wishes Che cosa vuoi? Posso andare in Magno? Ah Finalmente Finalmente Ragazzi Studiate questo paragrafo Io me ne vado E niente Ciao Aia Devo scappare Devo scappare Aiuto, aiuto, aiuto Non voglio più vedere mai più Quella tizia Bene ragazzi Oggi interrogo Chi ha studiato? Io, prof Io, io Bene Bene toilet Come sempre Ovviamente Verrai tu Insieme a Chi altro Vediamo un po' Non io Non io Ti pego Non io Non io Non io Io non esisto Io sono una cavolo di patata gialla Pretzel Ah Ma sei seria? Prof Fa prima mettermi i quattro Non perdevo tempo Ma pretzel Ah Fa niente Ti metto i stessi quattro Tanto non cambia molto Toilet viene a ripetere Su E viene insieme a te Vediamo un po' Skywish Dai Va bene prof Oggi mi sono preparata Dov'è? Dove l'ho messo? Mi sto annoiando a morte Ma che cosa cerchi? Il telefono Ovvio Dobbiamo fare un'analisi Suista Se è vero L'hanno programmata Per Per quest'ora Dai ragazzi Su Allora Oggi devo spiegare Allora Togliamo il computer Come sempre E adesso Devo Mettere Il libro Bene Allora Stavo dicendo L'ho trovato L'ho trovato Finalmente Alleluia Che dobbiamo fare questa live Ok ragazzi Scrivete quello che scrivo Alla lavagna Ma aspettate Dov'è la lavagna? Ma di solito È qui La vado Vado a chiedere Alla bidella Dai questo è il momento Già Inizio Ora Ciao raga Siamo una live Su Insta Ciao C'è insieme a me Dai Al mondo Seguite la sua Insta Ciao Ciao Tu togli ti Non rompere E oggi siamo qui Per fare una live Così Tanto per Perché Cioè È noioso E la prof È andata a prendere La lavagna Non chiedetemi Perché Ma ok Non si fanno Le live A scuole Soprattutto Non si usa Il telefono Non rompere Toilet Sei veramente Una secchiona Veramente Orribile Guarda Comunque Stavo dicendo Che come Siamo insieme A questi Tizi Perché Mi hai svegliato Stavo dormendo In piedi L'ho so Facuto una battuta No ti prego Non fai Le battute Ti prego Tutto Ma non Quello Non nella mia live Ok In realtà Dobbiamo fare Le lezioni Ma ok Ma perché A te piace Fare le lezioni No Anzi Io oggi Alla scuola Io studio Soltanto Qualche volta Quando So che La prof Mi interroga Ah ok No Perché Cioè Se no Era una cosa Oh mio dio Bene ragazzi Ho risolto Il problema Della lavagna Ho scritto Anche qualcosa Sulla lava E questa è Tutta raga Adesso finisco La live C'è La nostra Prof Saluti Prof Stavo facendo la live Su insta Poi Dico assolutamente Qualt'altro Che ho letto Sequestro Ok scusate raga Devo finire la live Perché se no La prof Rompere il scatto Va bene prof Lo metto a posto E invece Non lo uso Per istacare Bene ragazzi Ho scritto Una semplicissima Espressione Alla lavagna Chi vuole Andarle a correggere Io prof Io Io Tu ho letto Tu ci vai sempre Voglio Vedere Qualcun altro Rainbow Dash Cosa è successo Cosa Prof Mi ha sbagliato Da un bellissimo sonno Lo sa No e non mi interessa Vieni subito a risolvere Questa espressione La lavagna Ma prof È troppo difficile Vieni a risolverla Ora Ma prof Io non so farla Bene Due Ma perché Io non ho fatto niente di male Soltanto che la la so fare Bene toilet Vieni tu dai Oh si prof Bene ragazzi Ora dobbiamo fare scienze Io mi devo sistemare il ciuffo Mi devo sostituire Devo mettermi un vestito Alla moda Prof Cosa vuoi Diamond Mi scusi ma Per favore Dovendomi a cambiare No perché Cioè Sono Sono veramente Terribile Ma se sei bellissima Zetta tu Galaxy Sono proprio Una scema Volevo dire Diamond Secondo te È il caso Di andarci Per Per Fare Una stupidaggine Cioè Ma è così tanto Urgente Sì Prof Bene Allora vai Forza Grazie Bene ragazzi Adesso dobbiamo fare Dobbiamo fare Assolutamente questo argomento Che se no dopo Rimaniamo indietro Dai facciamolo subito Prof 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 Cosa vuoi Rainbow Le posso fare una battuta Sentiamola Fabrica di carta igienica Chiuso Andavo tutto a rotoli Seriamente No vabbè No vabbè Io esco Veramente Prof Posso andare in bagno No seriamente Io devo uscire Ma io non ho detto Niente di male E hai detto Soltanto una battuta Così squallida Che tipo Se ti sentivano I piccioni Morivano all'istante Tipo cadevano Così Bene ragazzi Dai continuiamo la lezione Guarda dove l'ho messo Trovata Adesso ci gioco Tutta la lezione Skywish Sai che cosa stai facendo Stai giocando Con una pallina di carta No prof Ok Va bene Dai che adesso Devo centrarla A gestino Uno Due Tre Oh Ci ho fatta Oh Ciao Skywish Bene Ciliegine Il video è finito Spero che vi sia piaciuto Va bene Con lo sfondo Della classe sexy Spero che vi sia piaciuto E noi Ci vediamo Un prossimo video Fashion Oh Non rompere Ma cosa Non rovinarmi Ha con tutta una nuova Sono troppo Ben Ma adesso Che cosa c'è in di turno Nella mia outro Vorrei capire Niente Voglio stare qua Bene Il video è finito Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi Lasciate un commento Qui sotto E noi Ci vediamo Un prossimo video Va bene Vieni Dai Ma io non voglio dare la testata Mi faccio male Non succede niente La tua testa E noi Ci vediamo O meglio E Yeah Noi ci vediamo Un prossimo video Ciao ciao Non fare niente Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Grazie.